Siamo molto felici, siamo molto felici perché io credo che la nostra comunità abbia premiato il buon governo. Credo che al di là, il dispiacere forse è stata una campagna elettorale basata sull'odio, sul fango, sul livore personale, quasi atavico, quasi fisico. Però sono felice perché questa deve essere l'Italia, l'Italia che tutti amiamo, basata sui temi, sui contenuti, sulle aspettative, sulle ambizioni programmatiche. Una grande soddisfazione per me ma per tutti quelli che mi hanno supportato. Che cosa, come festeggerai? Adesso vediamo, sinceramente non ci ho ancora pensato, adesso mi godo il momento e poi vediamo, organizzeremo qualcosa. Attendo anche le preferenze per i miei candidati. Il primo pensiero a chi è andato? Il primo pensiero è andato a Santa, è andato ai bambini, è andata alla mia famiglia.